Attacco armato in Pakistan, nella città portuale di Gwadar. Almeno tre persone armate sono entrate all'interno dell'hotel di lusso Pearl Continental, nella zona del porto, e hanno aperto il fuoco. Secondo la polizia locale si segnala una guardia uccise e alcuni feriti lievi. Gli attentatori hanno poi ingaggiato un conflitto a fuoco con la polizia. Gwadar si trova nel Belucistan, la più povera delle quattro province del Pakistan. Negli ultimi anni si sono registrati numerosi attentati di matrici islamista. In attesa di una rivendicazione per l'attacco all'hotel, tra i sospettati c'è il gruppo etno-nazionalista Balucistan Liberation Army.